Bene, questo è il primo allenamento dopo mesi di inattività, quindi dovrei prendere contatto. Primo chilometro in teoria di riscaldamento, invece ho fatto a 5 minuti di ricerca il chilometro, in che vuol dire che scaldarò prestissimo. Bene, la verità è che nessuno ha voglia di andare a correre, però sono uscito lo stesso, ho fatto i miei 4 chilometrini a caso, a 5-10, pulsazioni alte, non bene, ma neanche malissimo, dai, la prossima volta andrà meglio.